E' una ballerina del varietà, no, cavallino bianco. Il principale andava matto per le ballerine. Infatti ha sposato Greta. Trovavo prima il tutù, magari sposavo a lei. E' iscritto al fascismo. Non è fascista, fornisce l'esercito. Oh, tutti sono iscritti al fascismo. Oh, la camicia che indossa non è né rossa e né nera, ma sempre rigorosamente cifrata. E.M. Enrico Mattei. Enrico. Prima, grossi affari con i tedeschi. Max Mayer, Löwenthal, ma la Max Mayer italiana. Poi nel 31 te metti proprio. Industria chimica lombarda, solventi e saponi, altri affari con i tedeschi. Nel 36, moglie tedesca. Andava bene fino al 43, ma dopo l'8 settembre. Che vuoi fare? Il partigiano. Cosa dovrei fare? Il partigiano. Hai lavorato fino a tutti. Giù e giù per la francesina, a farmi dire se posso o no testare il grande presidente della Stagna a noi, o se devo cederli il posto a tavola. Vanno chiesto di liberare l'Italia dalla servitù del petrolio. i mezzi per raggiungere i risultati, li scelgo io, per ammetto di spalla, rivestito ancora di una maglia di lano in trecci, in trecci celestina, io sono come Francis Grant, mi hanno chiesto di trovare all'Italia un posto nell'industria del petrolio, voi dite che hanno idea di quali problemi comporta un incarico del genere, che sproporzioni di avversari, che intrecci politici, militari, economici, chi tocca il petrolio è un po' politico, che lo vogliono e nel quarto fondo di Mascafè si contempla zona scellare destra fino al domito, 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 domito coi potenti della terra. Grazie